Il colosso del gas TAP ha sede in Svizzera e uffici a Lecce, tra i suoi azionisti alcune tra le più importanti società energetiche in Europa e nel mondo. Il Sipri San Poca è stato scelto all'esito di una lunga fase di analisi che è stata condotta dalla società e dalla commissioneria. Aveva concluso che l'area di Merino fosse quella più adatta a sviluppare quella progettazione e a inviare i fini della valutazione via. Che vuol dire? Che vuol dire che quest'area non è interessata da emergenze archeologiche di altra natura che rendano incompatibile la presenza di questa struttura con le condizioni di contesto del territorio.